Sempre in prova con la nuova Dyslave 62 ml Gaia Blitz, la vado a usare anche con ovviamente tutte le hardbait, vista l'azione della canna, qui la vado a usare con l'AIDS F di Casa Valcain nella nostra colorazione, colorazione T3 Distribuscio Custom per l'Italia, trovate disponibile nei vari T3 Area Shop. Il pesce basso, l'AIDS è un crank che scende abbastanza, quel 1,80-2 metri massimo, ma io ovviamente lo vado a muovere con la canna in acqua, perché questo è un lago che è profondo, quindi proprio per arrivare sul fondo sono costretto a mettere la canna in acqua. Lo sto usando con un ester torai, un poliester torai da 1,4-1,6 litri, perché le mangiate sono molto corte, quindi un ester anche a crank mi aiuta a portare a casa la mangiata. Una volta che ho mandato l'artificiale impressione che ho raggiunto il fondo, proseguo con un recupero molto molto lento. I ZEI DRE LISERELLE, quindi come dicevo prima, nel caso di ABEIT, avendo una cala più ampia, ci aiuta ad arrivare immediatamente al lago. Eccolo qua. A posto ragazzi.